Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo video qua lo sto registrando di domenica Per ora nessuno mi ha scritto nei commenti Quindi dovrò decidere io Lo posso dire? Lo devo dire? Devo dire il mio amm che ho inventato io Ho cambiato Perché sono della mia nonna a registrare questo video Allora se sentite abbagliare stellina o dinamite I miei cagnolini Allora intanto andiamo alla skyblock E vediamo E voi vedete cosa ho fatto Allora ho un po' sistemato il via vai Non ci ho messo i muri Per proteggere però Ha tutto cielo Ah sì Ero qua a prendere A minare Allora ma come vedete Anche adesso se mancano le torce Intanto la vedo uno scheletro E mi fa paura Ma vabbè Anzi due scheletri E un creeper Ok Stavo dicendo Ho sistemato un po' il tutto Facendo così Poi ho messo la scalinata Adesso c'è il ragno Non ho messo le torce Disponeranno un po' di Di mostri E come anche le streghe Porco spino Maledettissimo C'è la spada Fu Tiè Fu Strega Te non ti combatto Perché l'ultima volta è andato a finire male Ma anzi malissimo Però Va bene Allora Non abbiamo Ci mancano solo un pezzo Allora In quest'episodio Mi si è 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 Innanzitutto Ciao Alpina Come stai? Tutto bene? Ok Mi fa piacere Volevo Siccome nei commenti Avevo detto Se Volevate andare In Quell'isola là Oppure In quella Adesso Ce l'arrivo Quella là Non mi avete detto Nulla Adesso Faccio Per conto mio Non sapete Che idea Ho avuto Mi sono preso Anche Le lastre Innanzitutto Togliamo Sul piccone Scusate Se ho L'inventare Un po' Tutto Cioè Se ho Le casse Un po' Tutte Così Messe 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 Però Quando avrò Il tempo Libero Innanzitutto Sistemerò qua E metterò Le cose Per Come si dice Per Per non farmi Cascare giù Diciamo Le I recinti I recinti Allora Con le strene Se ne sono andate Come l'altra volta Siccome era stato utile Check Almeno le strene Ma aspetta Con le strene Si è buttate Di sotto Vero Ok Mi sa che si butterà Di sotto Perché Se no Non è possibile Ora mi sa Che non lo farò Oggi E intendo Oggi su minecraft Perché Oggi Si perché oggi Perché devo Prendere Le torce Perché Sennò Mi spawnano Mostri A dritto Allora Intanto Ho messo Un po' Te le torce Perché voglio Tutto il luminoso Tutto bello Illuminato Qua non c'è nulla E neanche qua Quindi Attanto Ho questi Quindi faccio Uno No Due Ma comunque Ne Mentre Passavo A migliorare Alla skyblock Ho preso Un occhio Di ragno Perché ho Ucciso Un ragno Ok Prendiamo Tutte queste cose Ho anche I bastoncini Per farmi Subito Le torce Quindi Mettiamo Ah giusto Avevo anche Da raccogliere Questi lingotti Che avevo lasciato Addirittura No Nel secondo Episodio L'inizio Addirittura Nel primo Andiamo a mettere I nostri tesori Nella cassa Comunque Adesso Dovrò tagliare Un po' di legno Perché Mamma mia Cioè Mi sono cresciuti Alberi dappertù Non voglio Maremma Ok Metto qua A casissimo E Adesso Li taglierò Questa Se non mi blocco Parte E ci vedremo Quando ho finito Di Di appunto Cucinare Il Di farle Torce Ecco Eccomi Ho fatto Le mie Le mie Carbonelle Le mie Carbonelle Bello Due Tre E adesso Ora Prendere Altri Bastoncini Ce l'ho Vero? Ce l'ho? Non ce l'ho Adesso Se è un po' Meno Consumata La legna Quindi Quando posso Ok Andiamo a prendere La legna Facciamo I bastoncini E poi Ne bastano due Tanto Adesso Facciamo Le torce Un Due Tre Quattro Cin Sei Sette E Otto E abbiamo Quaranta Quattro Torce Che Metterò Perché Io Sono Fanatico Della gente E qua Manca Un po' Di Luce Ok Facciamo Che Faccio Così Giusto Per sprecare Un po' Di Torce Ecco Nel Su Mi Punto Di Spono Almeno Quando Ritorno Sono Illuminata No Non volevo Fare così Non volevo Di nuovo Fare così Comunque Volevo Dire Questi Episodi Verranno Un po' Più Corti Perché Se No Mi sa Che Vi Annoiate Un pochino A Vedermi Montare La Skyblock Poi Prima Facevo I video A 23 Minuti Adesso Li farò Da 15 Però Se Mi piace Talmente Tanto Questa Serie Allora Quello Un altro Conto Poi Allora Mettiamo Tutte le Torce Una Due Tre Quanto Faccio Schifo Nel Non Cadere Una Due E Facciamo Anche Tre Almeno Abbiamo Tutte Le Torce Tutto Il Sentiero Di Torce Adesso Se Non Casco Di Sotto Dove Arriviamo Prima In Quella O Prima In Quella Questa La Più Vicina La Più Vicina Magari Senza Cascarci Ok Ci sono Però Là Ci spawnono Un po' Monstri Perché Non Non ci sono Non ho messo Ah ma guarda C'è anche qua Il blocco Invisibile Allora Forse Faccio Sì Bene Ho finito Cioè Non ho finito Però Ho finito I blocchi Quindi Prendete Altri Ok Facciamo Ritornare L'hashtag No Non facciamo Ritornare L'hashtag Lunga Cosa Che Quella Se non è una lunga Cosa Non si sa Cos'è Ma vabbè È un punto Non so perché In quel video L'ho detto Lunga Cosa Comunque Hashtag Lunga Cosa Non ci credo Io E gli hashtag Ho dovuto Una volta Diverso Allora Intanto Qua Facciamo Un po' Di luce Giusto Per sprecare Un po' Di Torce Cosa Dovevo fare Ah Dovevo Prendere Le lastre Per Continuare Il ponte Per arrivare In quell'isola Là Proprio Quell' Là Poi Mi sa Che Ah Bisogna Arrivare Anche In quell'isola Là Quindi Io Mi sa Che farò Partire Magari Il prossimo Episodio Un ponte Da Qua No Da Qua Alla Perché Mi si è oscurato Non lo so Non si sa La batteria È risparmata C'è Scusate Vado a prendere Qui Porca E Non lo so Non lo so E Non Sanno Det Non Non Trudo No Mi 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 C'è fatto? Sì, ok C'è fatto C'è fatto L'ho vista Ma che? L'ho vista adesso? Sto facendo grazie C'è fatto Perché sto correndo? No, io no Non mi arrischio Dai, mannaggia Sti blocchi invisibili Allora, tanto faccio il blocco Dai, con questi ci le farà Chissà chi lo sa Beh, pochi lo capiranno Anzi, mi sa che nessuno lo capirà Solo io lo posso capir Vabbè, non è niente Tranquilli Allora, con questa Ah, sta di lunga cosa Con questa lunga cosa Anche facciamolo così Aia Volevo andare Wow, bella, bella, bella Un inchiostro C'erano dei polpi C'è dei Mi sembra molto uguale A quella delle streghe Mi si Oh no Devo fare come Nella storia Delle streghe Eh no No, io non ci credo Io basta Io basta Comunque, bel posticino C'è un po' di alghe Sugastro un po' nelle alghe Però qua non ci sono pesci Non ci sono pesci Cosa Cosa In quell'isola là C'è carbone Oro Ed è headstone In quella là C'è carbone E anche in quell'altra C'è carbone E in questa Vediamo un po' Anche in quella C'è carbone In questa La vedo un po' di carbone Poi non vedo altro Dai, mi servirebbe il ferro Almeno posso raccogliere L'oro E la redstone Giusto, giusto, giusto Ho visto Pescioli Ciao Lo sapete che Che voi sarete Il mio primo cibo Oltre alla mina Che ho mangiato Mi sa off camera O nel primo episodio Non mi ricordo Comunque Mamma mia Abbiamo anche una fonte di cibo Anche se Anche di là C'era C'era un po' di acqua Però qua ce n'è Poina di più Quindi va bene Allora No Avevo fatto il bambino Va bene Allora Basta Fai Uno Due Due No Ma le voglio lasciare Questi alberelli Sono carini Li lascio Non sono contro la natura Quindi Quindi Come farai Tommaso 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 Fa Così È l'unica maniera No Vabbè Rip Alberi Rip Alberi Non posso di nulla Addio Dispiace Ragazzetti Se la vi Se la vi Magari ne prendiamo Quattro Almeno ti rompiamo Tutto Così non soffrirei Mai più Se prendiamoli tutti Va Che ci possono far comodo E Spapim Sono una persona crudele Un po' magari Le possiamo lasciare No No Io faccio anche la crafting Per farla Cass Vabbè Non mi la crafting Table No ne faccio un'altra Perché la devo fare anche Per l'altra isola Ma L'altra isola C'è Già Allora faccio Nell'altra isola Là C'è Quell'altra Insomma L'avete capito Allora Dove la posso mettere Direi Qua In un pusto In un pusto Molto pustoso Molto pustoloso E faccio Uno E due Tac Adesso ci metto Questo No Dai ma io non so giocare A mangro Uno Due Li metto un po' a caso Tre Quattro Qua avevo visto un altro No Maremma E poi Adesso li posso suicidare No No Uno di esperienza E quell'uno di esperienza È buono Rip Questo video Si termina Ci termina Qua Ciao E E In un próximo video La Skyblog Oh Sì Sì